L'idea è di un concorso musicale in navigazione, quindi stiamo a bordo della nave Grimaldi Lines, sulla rotta Civitavecchia a Barcellona e mentre si suona i ragazzi possono ammirare le bellezze del mare. Saranno le esibizioni delle scuole, si è appena esibita la scuola di Campobasso, il suo comprensivo Colozza, con il suo bel programma e adesso la seconda scuola ad esibirsi è il suo comprensivo di Orsonia, quindi un'unica scuola abruzzese partecipante e quindi le scuole hanno a disposizione circa un'ora di tempo per preparare, fare il sound check e poi ascoltare i tre brani che la giuria valuterà per stabilire la classifica delle scuole. Presidente di giuria è il maestro Simone Genuini, un grande maestro, esperto di orchestra giovanili, è il direttore della Uni Orchestra dell'Accademia di Santa Sicilia, quindi è un nome importante, che è affiancato dai maestri Toni Fidanza e Franco Pellegrini.